felice è qui, felice è qui, felice è qui venite qui, abbracciamoli, perchè questo è un momento storico mamma mia, mamma mia, mamma mia in semifinale, in semifinale, in semifinale battendo il Barcellona, oddio, il Barcellona, il Barcellona cioè mettetelo bene in testa, il Barcellona ha eliminato il Barcellona, il Barcellona mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia mamma mia, volevano vincere, e l'hanno preso nel culo e l'hanno preso nel culo, e l'hanno preso nel culo e volevano vincere, mamma mia, mamma mia sì, remontata, 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 remontata remontata storica, in semifinale, in semifinale, in semifinale mamma mia, in semifinale, in semifinale, in semifinale mamma mia, mamma mia, mamma mia rimarrà nella storia, rimarrà nella storia da Roma e mo' continuate, continuate a dir eh, culo pari, homma, e culo pari, homma ahò, state versitti, che voi manco, manco in in semifinale voi arrivate, manco ai quarti arrivate, state versitti noi almeno siamo in Champions, siamo andati nei semifinali, nei semifinali, nei semifinali ai semifinali, ai semifinali di Champions League cioè, ma rendemose conto non in Europa, non in Europa Champions, cioè, ma rendete conto dai, godemose staserata è bella tutta, dai